Negli stessi anni in cui Artaud sta elaborando questa prospettiva nuova, questa via possibile per lui di una ricerca praticabile nel teatro, la via della crudeltà, la via del K, la via dell'incarnazione, del punto di ricapitolazione di tutte le forme, la via del diventar crogiolo. Ecco, mentre Artaud negli stessi anni in cui Artaud sta praticando questa via, negli stessi anni dicevo, egli elabora il progetto di fare un viaggio in Messico, di fare un viaggio in Messico, con l'idea che la cultura tolteca, la civiltà precortesiana, quello che lui spera di trovare ancora di quella civiltà nel Messico del suo tempo, bene, che quella civiltà custodisca un segreto, che quella civiltà custodisca anzi il segreto di quel tra, di quella azione simbolica, di quell'azione compositiva, di quell'azione di danza, avete già capito, che lega e scioglie veramente, che è la radice della cultura, o che, come lui dirà intitolando così, uno dei suoi testi messicani, che costituisce le basi universali della cultura. Basi universali della cultura che sono anche, l'abbiamo già detto, le basi possibili, anzi le basi uniche di quella che potrebbe essere l'unica possibile rivoluzione politica. E' molto delicato questo punto che io vi prego di tenere presente e che cercheremo di recuperare, di vedere, configurarsi in alcuni testi che adesso vi segnalerò. Vi prego di tenere presente questo punto delicatissimo, cioè per Artù la questione della cultura e la questione della rivoluzione e la questione della conoscenza incarnata in un teatro del transformare, sono questioni sinonime, sono lo stesso problema e sprofondano, nel loro punto di unione, in una particolare concezione della materia, della madre materia, della madre scura. Una concezione che gli ritiene lontana, diversa e irriducibile a quella del materialismo del suo tempo, del materialismo corrente, del materialismo anche egelo-marxiano o marxista in questo caso, del materialismo storico-dialettico, del materialismo degli empiristi, dice lui, del materialismo debole, del materialismo che in realtà è un dualismo e quindi è uno spiritualismo, come leggeremo adesso. Se non si ripensa l'operare trasformativo della radice materica di ciò che poi noi chiamiamo la differenza tra corpo e spirito, un'altra polarità, ecco se non si ripensa quella matrice primigenia e reiterata fuori dal tempo che ha a che fare con il gestarsi gestuale e la gestazione, gestante dei sensi, delle forme, delle cose, delle figure, dei segni, insomma di quella che chiamiamo la realtà, ecco se non si vede con chiarezza quel punto come punto di scatto origine del senso e delle cose, del senso e del mondo, dell'uomo e della terra, come anche dirà Arto, se non si vede questo ci si vota inevitabilmente ad un materialismo d'apparenza, in realtà ad un rinnovato dualismo e quindi ad uno spiritualismo correlativo e ci si vota ad una rivoluzione politicamente inefficace o una rivoluzione dimediata o una rivoluzione, per modo di dire, insomma, che non consegue il suo intento di trasformazione e capovolgimento del reale. Questo tema, cioè il tema della portata politica di quello che Arto ritiene essere il compito di una cultura rifatta in modo crudele nel segno del simbolo, diciamo così, ecco questo tema è al centro delle tre conferenze che Arto otterrà a città del Messico, di cui dopo vi dirò, e anche di molti degli iscritti che nei mesi che trascorrerà in Messico egli pubblicherà su riviste locali, in particolare su El Nacional, anche grazie all'aiuto e alla collaborazione di un amico che lo sostenne nei mesi messicani, cioè Luis Cardoza y Aragon. È a questo livello, a livello cioè delle basi universali della cultura, che si può realizzare una rivoluzione totale. Allora, Arto, quando va in Messico, dice chiaramente, no? Lui scriverà, in questi testi ho fatto un grande sforzo di chiarificazione e davvero leggere i testi messicani è sentire lo sforzo e la potenza chiarificatrice di cui questo poeta era capace. Leggere quei testi, dicevo, è fare un'esperienza di grande chiarificazione proprio su questo punto. Allora, prima di entrare, come dire, più narrativamente nella vicenda messicana, di cui vi dirò un po' le premesse, insomma, lo svolgimento, vi leggo così d'amblè un paio di passi che appunto chiariscono questo tema, le basi universali della cultura. È lì che si deve realizzare la rivoluzione, una rivoluzione politica se essa deve essere un modo per ricostruire l'uomo e la terra, l'uomo e il mondo. Allora, lui lo dichiara subito quando arriva a Città del Messico, agli studenti o agli intellettuali che lo seguiranno nelle conferenze appunto che terrà all'università, dove lui verrà presentato come l'intellettuale francese che viene a raccontare quali sono le avanguardie europee del suo tempo, le avanguardie artistiche, culturali e politiche del suo tempo. E Artaud invece dirà, io sono venuto in Messico per trovare uomini politici, io sono venuto in Messico per imparare qua qualcosa che devo riportarla. Artaud non ha la minima intenzione di restare in Messico o di diventare messicano o di essere, come dire, trasformato in un adepto di conoscenze segrete. Non è una fuga dalla sua vita di europeo, dalla sua cultura di europeo, ma è veramente la fiducia nel fatto che in questo viaggio, presso quelle popolazioni, presso quelle civiltà, egli potrà trovare materiali da riportare in Europa per realizzare il suo progetto, per incarnarlo. E allora leggiamo qualche passo, chiarificatore vi dicevo, del legame cultura-rivoluzione, cultura-materia, cultura-materia-rivoluzione. Dice Artaud Noi pensiamo che la rivoluzione socialista non sia che un aspetto separato della rivoluzione totale e che considerare la rivoluzione esclusivamente sotto l'aspetto sociale equivale a impedire che sia condotta a buon fine. Il problema non ci sembra quello della sostituzione di una classe con un'altra per arrivare in ultima istanza alla soppressione delle classi, il progetto marziano, diciamo, ma è quello di cercare nei modi di vivere dell'uomo le ragioni di un'eterna perversione. Quindi la rivoluzione sarà vera quando si scoprirà come mai, no? Che ne so, si formano le classi, non c'è da mangiare, c'è separazione, frammentarietà, impossibilità di rinascita, perché tutto è sterile. Perché? Perché tutto è sterile. Allora dobbiamo trovare le ragioni, le ragioni che stanno alle spalle di queste situazioni. Il problema non ci sembra quello dunque di una situazione di una classe con un'altra, ma quello di trovare le ragioni di un'eterna perversione che reiterano, no? Gli esseri umani nella loro organizzazione sociale e politica, nel loro modo di stare al mondo. Quando mi si parla di mangiare subito, rispondo che bisogna cercare immediatamente i mezzi perché tutti possano mangiare subito. Ma quando mi si dice, diamo da mangiare a tutti subito e dopo le arti, le scienze, il pensiero potranno svilupparsi, allora rispondo no, perché il problema non è stato ben posto. Diamo da mangiare a tutti e così dopo rifiorirà il senso dello stare al mondo degli esseri umani. Non è così automatico, dice Artaud. Per me non c'è rivoluzione senza rivoluzione nella cultura, cioè nel nostro modo universale, il modo nostro, di tutti noi, gli uomini, di comprendere la vita e di porre il problema della vita. La cultura è mangiare ed è anche sapere come si mangia e aggiungerei perché si mangia. Il marxismo, dice poco più avanti Artaud, non può spiegare la coscienza e si rifiuta di riconoscere il mondo della coscienza perché crede che sarebbe riconoscere la realtà assoluta dello spirito. Da parte mia, io dico che di conseguenza il marxismo adotta un atteggiamento spiritualista. Il suo timore di studiare la coscienza come un mondo in sé, come un mondo in sé, scusatemi, fa sì che per parlare dei fenomeni della coscienza continui in realtà ad applicare il vecchio linguaggio spiritualista che stabilisce ancora una distinzione tra materia e spirito. Davanti allo spirito il materialista si trova disarmato. Io voglio che si entri armi alla mano nel regno della coscienza perché ho dello spirito un'idea materiale. Questo andrebbe ripetuto perché sembra, insomma, sono oggetti di dibattito ancora attuale, no? O sei un empirista o se tu dici che la cosa è un po' più complessa e che la materia anche dell'empirismo è più complessa, immediatamente ti trovi schiacciato nella categoria degli spiritualisti. È molto frequente questo. Erto dice, no, no, attenzione, è il vostro che è spiritualismo perché non riuscite a tenere assieme le cose. Avete paura di entrare nel mondo della coscienza? Lo dovete negare, no? Lo dovete negare perché se lo ammettete non sapete che parlarne in termini spiritualistici. Allora non c'è. Con il risultato che appunto si dà da mangiare a tutti e poi dopo vedi come si rinnova. Ecco, questo è il suo rimpianto, insomma, no? Oggi, dice, a proposito dunque di rivoluzione nella cultura, oggi in Europa, oggi siamo partiti in queste conferenze nel 1936, oggi in Europa la cultura come l'istruzione, come l'educazione è un lusso che si compiera. È la prova migliore del fatto che il senso delle parole si perde e non c'è niente come la confusione nelle parole per rivelare uno stato di decadenza che ormai si è generalizzato in Europa. Ecco perché, prima di discutere di cultura, devo precisare il senso di questa parola. Noi parliamo di uomini coltivati e parliamo di terre coltivate ed esprimiamo in tal modo un'azione, una trasformazione pressoché materiale dell'uomo e della terra. La parola cultura significa che la terra, l'humus profondo dell'uomo, è stata dissodata. L'Europa ha creduto che la cultura fosse contenuta nei libri e ogni nazione europea ha i suoi libri, cioè la sua filosofia. Leggere queste cose per un filosofo è molto doloroso. In questi ultimi anni è nata una moltitudine di sistemi, ciascuno dei quali corrisponde all'apparizione di un nuovo libro e non solamente ciascuna nazione, ma anche ciascun partito politico possiede il suo. E al contrario di ciò che avveniva nelle grandi epoche in cui i filosofi comandavano la vita e davano origine alla politica, ciascun nuovo sistema politico si crea i filosofi che tentano pietosamente di giustificarne la demagogia. Gli alchimisti si chiamavano filosofi. Nella tradizione dei testi alchemici, ad esempio, si parla di filosofia maggiore o, nei testi greci, di filosofia maggiore per riferirsi ai filosofi appunto della tradizione dei testi filosofici, insomma, no? Quelli della ricerca razionale del sapere. E di filosofia bella a proposito dell'alchimia. È un dettaglio non secondario. Allora, ultimo passo che mi interessa leggervi sulla cultura, su come Artova a parlare di cultura, a questi giovani messicani. Dice, voi sapete come, volete sapere come è messa la cultura europea? Ve lo devo testimonare io? Allora ve lo racconto così. E dice, di contro alla cultura dell'Europa, che si regge su testi scritti e fa credere che la cultura è persa se i testi vengono distrutti, io affermo che c'è un'altra cultura sulla quale hanno vissuto altri tempi e questa cultura perduta si fonda su un'idea materialista dello spirito. C'è in questa cultura un'idea dello spazio. E io dico che la vera cultura non la si può apprendere che nello spazio e che è una cultura orientata, come il teatro è orientato. La cultura è un movimento dello spirito che va dal vuoto alle forme e dalle forme rientra nel vuoto, nel vuoto come nella morte. Essere colto è bruciare forme, bruciare forme per raggiungere la vita, è imparare a tenersi diritti nel movimento incessante delle forme che successivamente si distruggono. Gli antichi messicani non conoscevano altro atteggiamento che questo andi rivieni dalla morte alla vita. È come la croce a sei braccia che diffonde sulle mura di alcuni templi del Messico una occulta geometria. La croce del Messico è sempre cerchiata, è al centro di un muro, viene da un'idea magica. Per fare la croce l'antico messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta attorno a lui. Questa croce non serve a cifrare lo spazio come pensano gli studiosi di oggi. È una croce che serve a rivelare come la vita entri nello spazio e come dal di fuori dello spazio ritrovare il fondo della vita. Sempre il vuoto, sempre il punto attorno al quale si addensa la materia. Così Artaud parla di cultura, di cultura, evocando un primo simbolo, un primo segno con valenza simbolica, questa croce del Messico su cui torneremo tra breve a parlare. Ora qualche parola però sulla preparazione del viaggio messicano. Vi dicevo che Artaud negli stessi anni in cui lavora al teatro della crudeltà progetta il suo viaggio messicano, comincia a pensare a questo viaggio. Una ricostruzione secondo me veramente importante della preparazione di questo viaggio e poi anche del senso, in un'interpretazione originale di questo viaggio, è proposta da Marcello Gallucci, un amico caro, nella protasi e poi invece anche nella apodosi della raccolta in traduzione italiana dei messaggi rivoluzionari, perché questo è il titolo che Artaud decise che dovessero avere i suoi testi messicani raccolti appunto in volume, messaggi rivoluzionari. Gallucci ripostruisce magistralmente anche tutta la vicenda editoriale molto complessa di questi testi che in sostanza nella loro gran parte sono stati poi ritradotti, cioè che apparvero prima in Messico, quindi tradotti in spagnolo e poi sono stati ritradotti in francese, quindi lui ha dovuto tradurre dal francese che però era già una traduzione dello spagnolo. Quindi è un lavoro molto complesso quello che lui ha compiuto. La edizione a cui io faccio riferimento dei messaggi rivoluzionari, quella curata da Marcello Gallucci è del 94, è questa, e ho visto che ne esiste un'altra uscita pochi anni fa, recentemente insomma, che raccoglie testi. Non ho controllato il dettaglio dell'indice, ho però visto che non c'è un riferimento a questo lavoro di Marcello Gallucci, questo volume è fuori catalogo, è irreperibile, ahimè, io chiederò però a Marcello Gallucci se possa metterci a disposizione, se possiamo condividere insomma anche solo sul sito e almeno i due saggi che lui ha utilizzato, ha scritto, scusatemi, nella preparazione del volume. Glielo chiederò. Allora, quindi, rinvio a quella per una descrizione di dettaglio, perché poi anche la vicenda biografica sarebbe molto, molto importante da seguire, da attraversare. Diciamo che questo viaggio messicano Arturo comincia a meditare, a preparare, già dal 31, 31-32. Ricostruire, ad esempio, le letture, gli studi che Arturo fece nel costruirsi questa immagine. Perché il Messico? Perché proprio il Messico? Da dove viene quell'immagine? Perché non va a Bali? Uno dice, no? Perché non va a Bali? Perché lui ritiene di avere scoperto davvero che c'è, ci sono delle tracce, ci sono dei luoghi. Lui si aspetta di andare a trovare proprio dei gruppi che lavorino alla rinascita pratica di quel segreto culturale che sono le basi della cultura, le basi universali della cultura. Verrà deluso in questo senso, cioè quello che troverà a Città del Messico, dove trascorrerà i primi mesi della sua permanenza messicana, lo deuderà profondamente, anche se il suo sguardo sarà sempre attento a cogliere i dettagli. Nelle lettere che scrive, ad esempio, agli amici in Francia, che sono la testimonianza che abbiamo insieme a quella di Luis Garadosa y Aragon, di cui parlavo prima, che fu vicino a lui nel suo giorno messicano, dicevo, le lettere che abbiamo, queste testimonianze che abbiamo, mostrano un artò che in realtà è entusiasta, convinto di vedere, di trovare segni, che cerca di mettere assieme, di intrecciare gli elementi, frammenti di quello che vede, ma che anche è consapevole del fatto che la rivoluzione messicana, che lui aveva pensato, forse no, la rivoluzione zapatista, non aveva risvegliato quei segreti della cultura, che dunque nel Messico, diciamo così, occidentalizzato, per dire in breve, non c'era più traccia di quell'antica civiltà tolteca, di cui lui pensava di trovare il ribollire ancora nella vita quotidiana dei messicani. E allora andrà a cercare quella eredità fuori da città del Messico, andrà altrove, andrà in mezzo agli indios, lui dirà è lì che posso trovare qualcosa, è la civiltà tolteca di cui gli indios sono ancora, no, per come sono riusciti a conservarsi e a conservarla, sono ancora i detentori. Quindi, qualche cenno soltanto alla preparazione di questo viaggio e in particolare vi leggo un estratto da una lettera che Artaud scrive a Jean Polin, che era diventato il nuovo direttore della novella Revue Française, che era un suo interlocutore importante, Artaud pubblicò molti testi sulla Revue Française, e a cui, tra l'altro, Artaud aveva affidato i testi che avrebbero dovuto essere pubblicati col titolo Il teatro del suo doppio, titolo che Artaud decise mentre era sulla nave, era in mezzo all'oceano, sulla nave che lo stava portando da Anversa al Messico, insomma, a Santa Cruz, dove sbarcherà per andare poi a città del Messico. Titolo, appunto, che lui trova in viaggio, gli scrive una lettera in uno degli scali, spedisce la lettera, appunto, con questo titolo che spiega. Ma dicevo, Polin, che sarà un suo interlocutore importante sia prima sia durante il viaggio in Messico, riceve, nella lettera che scrive a Polin, dice perché sta pensando proprio al Messico. È una lettera del luglio 1935. Considerate che Artaud scriverà lettere al ministro degli estri, al ministro della pubblica istruzione, perché aveva bisogno dei soldi, dei fondi, no? Quindi cercò in tutti i modi di farsi dare una qualche missione, però mille ostacoli, problemi. Quindi si deve fare con una, come dire, un uso di energie enorme, perché questo viaggio lo doveva fare. E lo fece. Chiaramente con enormi problemi di sostentamento. Enormi problemi di sostentamento. È interessante per quel poco che si è riuscito a ricostruire, capire anche dove lui abitò. Sì, ogni tanto ebbe ospitalità di amici, ma si dice che si trovava ad abitare, che passava anche il tempo nei bar, giocava nelle piazze. Plaza Garibaldi, luogo malfamatissimo, era una delle piazze che Artaud frequentava, probabilmente anche per procurarsi gli oppiacei, che aveva ripresa ad usare in quella fase in cui i dolori, le sofferenze, la sua malattia, fasi in cui quei dolori si erano riattivati nuovamente. La vita di Artaud fu attraversata continuamente da ritmi cadute nella dipendenza da droghe e fasi appunto nelle quali si disintossicava. Questo è un capitolo a parte, ma certamente ha a che fare con quella dimensione malata, diciamo così, che lui sin da ragazzo denunciava e sappiamo che la malattia c'era, che la sofferenza c'era, che Artaud arrivò a Parigi per curarsi, che arrivò a Parigi presso una clinica, una clinica per curarsi. E il viaggio in Messico anch'esso rientra nel progetto di autoterapia che Artaud sta mettendo in moto. Perché la rivoluzione della cultura, quella che abbiamo detto ha portata a politica, che ha a che fare con un materialismo di nuovo genere, quella rivoluzione è anche, l'abbiamo ricordato la volta scorsa, è anche guarigione dalla malattia. In tutti i sensi, Artaud conosceva la propria malattia molto bene. Va bene, allora vi leggo in questa lettera del 35, del luglio 35, una delle tante che Artaud scrive, in cui spiega a Polin perché ha deciso di andare in Messico. Vi leggo un brevissimo estratto. Lui dice, da parecchio tempo, carissimo amico, eccetera, da parecchio tempo ho sentito parlare di una sorta di movimento sotterraneo in Messico, a favore di un ritorno alla civiltà precortesiana. Questo mi è parso estremamente sconvolgente e mi sono informato. Mi sono informato in particolare da Robert Ricard, che ne ritorna, che torna dal Messico, e credo che abbia tenuto un corso all'Ecole Française di Città del Messico. Quindi ha fatto delle cose, ha fatto un viaggio, questo comune amico. Quindi mi sono informato, ci sono davvero appunto questi movimenti sotterranei che sono a favore di un ritorno alla civiltà precortesiana? Ho richiamato lì sopra un ampio progetto di fondo e credo di aver trovato una forma, cioè un modo per realizzarlo. Ed ecco come, ma tutto questo Jean Paulin deve restare segreto, limitato a lei e a me e alle persone che potranno aiutarmi. Cioè io ho questo progetto, mi dia una mano, insomma, no? Lui risce da partire soltanto nel gennaio del 36 e quindi già è al lavoro con le lettere, mi dia una mano, dice nel luglio del 35. e dice, mi sbaglio di molto forse, ma la civiltà precortesiana è una civiltà a basi metafisiche che si esprimono nella religione e negli atti con una specie di totemismo attivo, diffuso dappertutto, creatore di simboli, aperto ad ogni sorta di applicazione. Ecco cosa va cercando. Non credo che questo movimento precortesiano abbia coscienza della magia che cerca, ma quando ho esposto il mio progetto e le mie idee a Robert Ricard, che è un allievo del professor Rivet, mi ha detto, quella gente non sa in realtà che cosa cerca, lei può contribuire a raddrizzare le loro idee. Ecco, no? Lo studioso, lei può contribuire a raddrizzare le loro idee, ma bisogna andare laggiù. Ed ecco che cosa ho combinato, dice Artaud. Ho cercato, cioè, quindi il professor Rivet, al quale Robert Ricard ha parlato di me, gli ha detto, non ci sono soldi, nessuno ha più soldi. Ho dunque un progetto per delle conferenze, eccole qua, che potrò fare a città del Messico e in qualche altra città. Queste conferenze le farò sui rapporti del teatro con la civiltà e con la cultura. E poi aggiunge, poco oltre, non mi pare sbagliato per noi altri, cioè per noi altri europei, qui, che qualcuno vada a sondare ciò che può restare in Messico di un naturalismo in piena magia, di una sorta di efficacia naturale sparsa qua e là, nella statuaria dei templi, nelle loro forme, nei loro geroglifici e soprattutto nel sottosuolo della terra e ancora nelle vie mobili dell'aria. Quindi Artaud qui dichiara che cosa va a cercare. Io vado a cercare una civiltà a basi metafisiche, creatrice di simboli, mi hanno detto che ci sono gruppi che stanno lavorando per che questa civiltà possa riemergere dal sommerso, dal mondo sotterraneo in cui è stata schiacciata dai processi di, chiamiamola, civilizzazione occidentali. E allora è utile anche per noi europei, che uno, ci vado io, ma che uno vada a sondare per capire che cosa c'è che noi possiamo portare qua, che cosa noi possiamo portare qua. Ripeto, Artaud vuole portare qualcosa dal Messico, qualcosa per sé, qualcosa per la sua cultura, qualcosa per la sua Europa, per la sua vecchia Europa. L'imbarco avviene nel gennaio del 36, vi dicevo, e l'arrivo in Messico nel febbraio del 36. In febbraio Artaud tiene le conferenze che aveva programmato all'università, sono tre le conferenze, surrealismo e rivoluzione, l'uomo contro il destino, il teatro e gli dèi. E l'uomo contro il destino, il teatro e gli dèi, tra l'altro, ma anche surrealismo e rivoluzione, mettono in gioco molti dei temi che ho qua evocato, sia nel dialogo con Domal, nel dialogo implicito con Domal, sia nel dialogo esplicito con i marxisti e con i surrealisti. In sostanza, mettono in luce quel tema politico che vi dicevo essere al centro dell'idea di cultura con cui Artaud arriva in Messico. In marzo, in marzo, concluse le conferenze, lui dà il primo annuncio, sempre nelle sue lettere, di un viaggio fuori da città del Messico che intende fare. Vi leggo questo passaggio quando Artaud scrive, sta scrivendo sempre a Jean Polin, siamo al 26 marzo del 36, dice parto in questi giorni per Quernavaca, piccola città a due ore da città del Messico. Vi si batte il famoso tamburo rituale teponestli. Poi cercherò di vedere il popolo che scortica vivitori e si sente creppare da ridere, gli indios yoskis. Quindi, io ho il progetto di lasciare città del Messico. Qualcosa è successo. Sto pensando di andare ad esempio a Quernavaca perché voglio sentire suonare il tamburo teponestli, il tamburo rituale teponestli, tamburo tradizionale della civiltà tolteca che si ritrova in moltissimi luoghi e in moltissimi riti della tradizione appunto precortesiana. E poi voglio anche andare dice presso quel popolo che ha un altro rituale, quello di scorticare vivi, scorticare vivo un bue. Ha sentito parlare di queste due cose, vuole andarle a vedere. Teniamole presenti. In aprile Artaud scrive una lettera a René Tomas in cui precisa il suo progetto che è un progetto che di fatto poi si potrà realizzare davvero al solito dei progetti poi però i mezzi materiali per realizzarli sono difficili da reperire quindi ci mette tempo ad attuarli. Ce la farà fare questo viaggio fuori da Città del Messico presso gli Indios lì dove forse davvero davvero c'è memoria attiva agita di quelle basi universali della cultura che sta cercando dove davvero forse potrà trovare quegli uomini politici come dice in un'altra conferenza venuta in Messico per trovare uomini politici sono gli Indios gli uomini politici con cui potrei lavorare che hanno un'idea della politica che per me può funzionare questo pensa Artaud bene dicevo mentre spiega nuovamente in aprile il senso di quel viaggio che intende fare e che non ha ancora fatto Areni Tomas Tomas scusatemi dice ecco mio caro Tomas conto di lasciare Città del Messico prossimamente per l'interno del Messico parto alla ricerca dell'impossibile vedremo se riuscirò lo stesso a trovarlo parto alla ricerca dell'impossibile sembra che dica parto alla ricerca dell'indicibile in qualche modo parto alla ricerca di qualcosa che forse è impossibile comunque certo ritenere non averlo trovato tra gli intellettuali e gli studenti dell'Università Messicana Giugno perché ancora non è partito Giugno lettera all'amico Jean-Louis Barrault e all'amico Jean-Louis Barrault si rivolge in un modo diverso che rispetto a come fa con tutti gli altri compreso Jean-Paulin in un modo che è davvero eloquente lui ha deciso quale sarà l'area del Messico centrale in cui si muoverà sarà la Sierra Madre la Sierra Madre del Norte e lui ha già deciso che andrà presso la popolazione dei Tarahumara o come si chiamano loro Raramuri che vuol dire piede veloce a Barrault dice qualcosa di molto più preciso non dice solo vado alla ricerca dell'impossibile dice cosa voglio fare e perché vado là vi leggo mio caro Barrault 17 giugno 1936 città del Messico mio caro Barrault poche persone hanno in effetti compreso lo scopo del mio viaggio in Messico non si trattava di cambiare vita e di fuggire la Francia dove non potevo più trovare pace non ti posso dare precisazioni ma una sera uscendo da Sonia una loro comune amica che poi finirà uccisa in un campo di sterminio io ti ho accennato al vero scopo del mio viaggio in Messico e ti ho detto che c'erano delle caverne in Messico mi dibatto anzitutto per vivere e il pane quotidiano è duro ti assicuro infine mi dibatto per uscire dal Messico e raggiungere alcune tribù indie ed essere iniziato alle loro pratiche non vado a casaccio ma dopo Cuba io ho un mio strano filo una Cuba fece una fece uno scalo dove forse poter si dice si ritiene forse partecipare ad una ad un rito del Voodoo ho una cosa preziosa da trovare ecco il punto io ho una cosa preziosa da trovare per questo vado presso le popolazioni indie ho una cosa preziosa da trovare e quando l'avrò in mano potrò automaticamente realizzare il vero dramma che io devo fare con la certezza questa volta di riuscire e poi sul bordo della lettera un'annotazione e forse questa volta non si tratta del teatro sulle scene forse questa volta non si tratta del teatro io devo realizzare il vero teatro il vero dramma se troverò quello che sto cercando lo potrò realizzare e forse questa volta non si tratta di teatro sulle scene in effetti Artaud non calcherà più le scene come attore dopo dopo i cenci non salirà più in scena e però lui dice il vero teatro forse non si tratta più di farlo sulle scene dove si tratterà di farlo? in agosto finalmente Artaud riuscirà a partire per la Sierra Tarahumara e raggiungerà gli Indios Tarahumara e presso gli Indios Tarahumara dopo un lungo percorso che lui racconta essere durato 28 giorni di cammino per addentrarsi negli antri della montagna Tarahumara sarà messo a partecipare al rito del peyotl del quale parleremo nella nella sessione prossima e conclusiva del nostro seminario quando andremo a tirare le somme del nostro percorso e anche del nostro cammino con Artaud dell'incontro con i Tarahumara e di quello che lui vide di quello che lui trovò dello strumento per realizzare il vero teatro Artaud scriverà subito dopo il rientro dalla Sierra Tarahumara e cioè nello stesso 36 i testi verranno pubblicati in Messico poi verranno pubblicati anche in Francia sempre grazie all'intervento della Nouvelle Revue Française con il titolo Viaggio al paese di Tarahumara in settembre concluso il viaggio che si svolge in agosto appunto presso Tarahumara Artaud si imbarca e torna nel vecchio continente torna in Europa questa esperienza segnerà definitivamente il seguito della vita di Artaud quindi capire cosa è successo capire cosa ha visto capire cosa ha imparato cosa ritiene di avere trovato Artaud attraverso questo viaggio e in particolare attraverso l'incontro la partecipazione al rito di guarigione e creazione che è il rito del peyotl letto da Artaud ma ne parleremo la prossima volta letto da lui quindi a prescindere da intenzioni antropologiche etnografiche filologiche Artaud fa un'esperienza e quello che vale è quello che lui ha visto e vissuto in quell'esperienza e che racconta lo racconta nel 36 come vi dicevo e lo racconta nel 43 il 43 è l'anno in cui Artaud dopo molti anni ricomincia a scrivere ma fisicamente non è che ricomincia a scrivere ricomincia a scrivere perché dal 37 al 46 Artaud verrà ricoverato in ospedali in ospedali psichiatrici quindi si farà tutto il periodo della guerra in internamento psichiatrico la vicenda vuole ma per quel poco che se ne sa ne parleremo un po' la prossima volta la vicenda vuole che Artaud tornato in Francia tornato a Parigi scriva un testo un testo molto particolare che si chiama le nuove rivelazioni dell'essere che sono l'ultimo testo che Artaud scrive prima di partire per l'Irlanda in un viaggio di cui si sa davvero pochissimo quasi niente partire per l'Irlanda e da cui tornerà in camicia di forza da cui tornerà con un rientro coatto espulso appunto per motivi che sappiamo raccontati da lui cioè una collutazione degli scontri dei disordini che inducono appunto il governo irlandese a rimpatriarlo e poi pare che sulla nave ci sia stato nuovamente uno scontro violento con qualcuno forse con l'equipaggio non sappiamo e questo indusse appunto i controllori che lo stavano riportando in Francia a appunto scaricarlo direttamente in ospedale psichiatrico cambierà quattro ospedali psichiatrici nel corso dei nove anni di internamento e quando ricomincia ovviamente non potrà più scrivere non potrà più scrivere non avrà proprio come farlo intanto scoppia la guerra Artono riesce ad essere gli aiuti i supporti i contatti con gli amici negli anni della guerra potete immaginare come diventano per chi è paziente psichiatrico e sono nel 43 quando verrà trasferito nella clinica di Rodez che sarà l'ultima clinica in cui lui trascorrerà tre anni affidato alle cure di un medico che si chiamava dottor Ferdière vabbè anche questo parleremo proprio nel 43 quando inizia l'ultima fase diciamo della terapia psichiatrica che verrà imposta ad Artaud e che prevedrà lì a Rodez anche una numerosa una nutrita serie 50 almeno di elettroshock in quella fase mentre Rodez diventa il luogo della sua ultima macinazione del suo ultimo squartamento sotto i cavi dell'elettroshock terapia al tempo stesso però sempre per volontà di Ferdière che era il medico specializzato in questo tipo di terapia egli però ricomincerà anche a scrivere sulla figura ambigua e complessa di Ferdière se sono versati litri e litri di inchiostro noi non faremo non daremo contributo a questo inchiostro cerchiamo di comunicare i fatti quello che è certo è che Artone nel 43 ricomincia a scrivere e scrive De Tarahumara ricomincia a scrivere e racconta il suo Messico e continuerà a farlo continuerà a fare racconto di questa esperienza racconto e pratica di questa esperienza ancora nel 47 e nel 48 cioè fino all'ultimo testo a cui lavora Artone che si intitola Pour en finir avec le jugement de Dieu per farla finita col giudizio di Dio ultimo testo che a molti forse è già noto ma molti altri no Artone come dire ritenne di poter costruire come una messa in voce radiofonica aveva firmato un contratto per una emissione radiofonica poi questa emissione fu sospesa il giorno prima della presentazione perché il direttore della radio ritenne che fosse indecente insomma non è possibile trasmettere quel testo recitato e costruito appunto in un montaggio che Artone ritenne essere un esercizio di teatro della crudeltà quindi ritroviamo ritroveremo l'ultimo Artone che riprende il filo ma vedremo a che livello di trasmutazione insomma no certamente ecco eventi fondamentali ci torniamo nella prossima volta quando cercheremo di di toccare qua e là la metamorfosi incarnata che questo uomo realizzerà portando agli estremi all'estrema radicalità la attuazione di quella postura simbolica di quella postura trasmutatoria di quella postura alchemica che richiedeva un'incorporazione nel proprio corpo un'incarnazione nel proprio corpo della cultura della sapienza trasformatrice lo vedremo la prossima volta adesso vorrei dedicare però questo tempo che ci rimane ad una riflessione o ad una piccola pausa diciamo così su due oggetti che Artone ha evocato nei testi che abbiamo letto fino a qua due oggetti molto particolari che tornano che rivestono una importanza notevole sul quale Artone tra l'altro scriverà anche dopo anche nei testi appunto del 43 insomma o dal 43 in avanti che tornano in diversi luoghi della sua riflessione messicana quindi mentre era in messico e questi due oggetti forse li avete notati nelle letture che vi facevo prima li ho evocati ma non ho detto niente insomma sono la croce a sei braccia la croce del messico e il tamburo teponasli vorrei chiudere questa sessione osservando e riflettendo e lasciando appunto emanare una serie di forse anche solo suggestioni come Artos scriveva forse mi sbaglio di grossa insomma suggestioni che però per me sono molto efficaci nel chiarire il senso di quella metafisica del simbolo che è la radice di una la radice universale della cultura che è il luogo di un materialismo di nuovo genere un materialismo che incarnato è in grado di attuare la trasmutazione alchemica ovvero la vera rivoluzione totale della propria vita e di quella della terra coltivare è coltivazione dell'uomo dissodare ricordate no l'uomo colto è colui che brucia forme e cultura vuol dire dissodare l'humus di cui è fatta la terra certo di cui è fatto l'uomo dissodare l'humus farsi crogiolo e al tempo stesso farsi elemento che si scioglie che cola nel crogiolo allora cominciamo dalla croce a sei braccia chiederei a Francesco se come la volta scorsa mi può aiutare con la condivisione dello schermo di mostrare la figura dieci che ho preparato vediamo se riusciamo magari mentre Francesco fa questa operazione se riusciamo se no ve la descrivo io vi dico qualcosa una croce a sei braccia è una croce che evidentemente che anziché essere fatta eccoci qua eccolo qua ah non c'è bisogno che la descriva grazie Francesco croce a sei braccia è una croce che appunto ha tre linee anziché due che si intersecano ed è noto anche credo che voi l'abbiate già visto se mostriamo la figura dieci ad esempio perché nella nella tradizione e nell'arte paleocristiana viene utilizzata per raffigurare il Cristo la croce diventa il segno del Cristo vediamo la figura undici Francesco se riesci per raffigurare il Cristo il Cristo in croce ma inserendo nella croce il monogramma chi ro del Cristo quindi se vediamo la figura undici si dovrebbe vedere la stessa croce paleocristiana ecco no la stessa croce a sei braccia con la chi appunto la vedete no in diagonale la chi è una come una x diciamo no in diagonale e la ro che in greco si segna come quella che per noi è una p la vedete quella in verticale e sui due lati l'alfa e l'omega all'inizio e alla fine quindi è un segno importantissimo dalle valenze estremamente complesse presente dicevo anche nella nostra valenzione quindi è qualcosa che avete sicuramente già visto anche voi insomma no sono sicura ma se torniamo alla figura 10 che assomiglia molto di più a quella del Messico che vede Artò perché appunto non ha la chi e la ro del Cristo vediamo proprio la forma che colpisce Artò lui la vede ripetutamente magari possiamo metterla davanti quando Francesco riesce e lasciarla per un momento ecco lasciamola pure è più o meno così la croce del Messico e ha un senso completamente diverso da quello che lo stesso segno ha ad esempio nella tradizione appunto cristiana in particolare nell'uso rappresentativo che se ne è fatto nella tradizione paleo cristiana no perché la croce del Messico non indica ovviamente il Cristo e appunto il monogramma delle sue lettere nulla di tutto ciò ma indica qualcosa d'altro dice Artò la croce del Messico sorge dal vuoto rappresenta un'idea dello spazio che si dispiega a partire dal vuoto le sei braccia della croce completa si incrociano nello stesso punto e questo punto centrale rappresenta il vuoto pregherei di Francesco di tenere ancora l'immagine vi ricordo quello che abbiamo letto prima a posta non mi ci sono soffermata perché sapevo di tornarci lui dice è come diceva è come la croce a sei braccia che diffonde sulle mura di alcuni templi del Messico un'occulta geometria la croce del Messico è sempre cerchiata è al centro di un muro viene da un'idea magica per fare la croce l'antico messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta attorno a lui questa croce non serve a cifrare lo spazio non è una cifratura dello spazio non è una descrizione dello spazio è una croce che serve a rivelare come la vita entri nello spazio ripetiamolo come entra nello spazio come si fa la croce il messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce la croce spunta intorno a lui vi ripeto bisogna leggere Artaud diciamo letteralmente vi prego ha detto che il messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta attorno a lui non la disegniamo noi essa si forma come per esplosione dal porsi in una specie di vuoto dell'antico messicano da parte dell'antico messicano col suo intero corpo ed è una croce che quindi rivela come la vita entra nello spazio così per dilatazione di orientamenti di linee di orientamento che spuntano attorno a un centro vuoto che non è altro se non il qui presente corpo dell'uomo dell'antico messicano che si pone che sa porsi nel centro nel centro K nel centro nullo l'avevamo già letto adesso però forse assume un altro un altro peso un'altra un'altra rilevanza ancora questa croce messicana che è stata descritta anche da studiosi antropologi filosofi eccetera eccetera questa croce messicana mostra una cosa molto chiara perché essa si trova anche come come dire come pianta di alcune importanti antiche città tolteche una pianta quindi indica appunto certo che indica un orientamento nello spazio ma non una cifratura non è una descrizione dello spazio di certo è come accade il dilatarsi dello spazio e accade in palesemente modo diverso rispetto ai quattro punti cardinali a cui noi siamo abituati e che ci avrebbero indotti a immaginare piuttosto una pianta a croce greca o latina comunque a quattro braccia non a sei e no certo invece la croce messicana indica sì i punti cardinali del cosmo ma i punti cardinali per gli antichi messicani non erano quattro erano cinque il quinto punto si collocava nel centro dello spazio orientato quindi quattro punti cardinali la previso dello spazio e l'orientamento ma anche un quinto punto il quinto punto che si colloca dicevo nel centro dello spazio orientato ai quattro estremi e questo punto corrisponde dice ad esempio Lourdes Velázquez González nel suo filosofia e medicina del Messico antico questo punto centrale era costituito dalla superficie della terra dove l'uomo pone la pianta dei suoi piedi e attraverso cui transita la sua vita quindi la linea verticale vedete che interseca longitudinalmente le due oblique passa esattamente per quel quinto punto per quel quinto punto cardinale questa linea questa linea verticale rappresenta dunque in proiezione se abbiamo inteso quello che ci dice la Velázquez González cioè che quel punto quel quinto punto è il punto in cui l'uomo pone la pianta dei suoi piedi guardatelo evidentemente è su un altro piano quella linea verticale mostra rappresenta in posizione in proiezione la linea dello zenith la linea perpendicolare alla superficie terrestre quindi la linea che vedete in centro non dovete vederla su una sola dimensione sulla stessa dimensione piana su cui si orientano le due linee oblique essa la interseca verticalmente è loro perpendicolare è l'uomo in piedi ricordate essere colti è stare dritti nel bruciare delle forme nell'aprirsi delle forme ed è semplicemente lì dove poggi il piede qui tu sei qui qui agisci qui accadi e come accade nella tua azione si apre intorno a te la croce dell'ingresso della vita nello spazio è la tua azione che si spazializza sicché non è strano che appunto il centro della città in queste città che ricalcano nella loro pianta questa croce messicana rappresentasse l'ombelico del mondo e al tempo stesso rappresentasse il luogo centrale da cui promana tutto il resto della città dove tutto lo spazio è inaugurato ma è inaugurato da un centro vuoto da un centro vuoto perché l'incidenza centrale del punto in cui le sei braccia si incrociano è l'incidenza nella quale ogni orientamento prende forma e al tempo stesso ogni orientamento vene meno è il centro è il punto vuoto questo quinto punto cardinale infatti non c'è se non in quanto è l'intersecarsi delle direzioni aperte nella divaricazione ma al tempo stesso le direzioni aperte dalla divaricazione sono direzioni che sono aperte da quel vuoto da quel qui da quel punto zero che dunque ha piena valenza simbolica ha piena valenza simbolica perché non si vede nelle quattro direzioni capite? nel nord sud est ovest diciamo non vedi il centro il centro che incrocia quelle direzioni ma lo presupponi come ciò da cui quelle direzioni non possono che essere emerse quel punto vuoto tra quel punto vuoto tra è al tempo stesso scato origine visibile invisibile è tra i punti e non è un punto è orientamento ma non lo è ancora è il quinto punto quello della esplosione silenziosa di ogni spazialità il punto della estensione di ogni possibile orientamento il quale accade semplicemente a partire da te qui nel tuo punto verticale che ti apre all'azione e in questo senso il punto sempre si sottrae capite? perché come agisci hai aperto lo spazio ti sei dato un qui e un là un qui e un là un là e un qui hai già polarizzato ma questa polarizzazione rivela se solo tu lo sai ricordare quel punto verticale zenitale in cui orientamento non c'è ma che è necessario per ogni orientamento e al tempo stesso che emerge solo dall'emergere e come l'invisibile sommerso di ogni orientamento il punto zenitale la linea verticale che attraversa dunque la croce del messico è il punto della trasformazione lo avete capito no? è il punto della del punto trasformatorio è il punto alchemico ed è un'azione è un'azione che si apre è un punto di passaggio è un passaggio del vuoto e al tempo stesso è il tutto pieno di ogni possibile orientamento ecco perché la croce non è una cifratura degli orientamenti spaziali ma indica come la vita entri nell'orientamento entri nello spazio entri nell'estensione e al tempo stesso questa croce mostra il processo attraverso cui accadono i poli dell'orientamento i punti cardinali chiamiamoli così il modo in cui essi accadono nel processo per cui accadono il processo per cui accadono si orientano significano le cose nello spazio e qual è questo processo? Beh leggiamo un momento Artaud che lo spiega in un altro passo cruciale e dice ogni villaggio Tarahumara è preceduto da una croce circondato di croce ai quattro punti cardinali della montagna non è la croce di Cristo la croce cattolica è la croce dell'uomo squartato nello spazio l'uomo con le braccia aperte invisibile inchiodato ai quattro punti cardinali con ciò i Tarahumara manifestano un'idea geometrica attiva del mondo a cui la forma stessa dell'uomo è legata il processo mediante il quale la vita entra nello spazio lo squartarsi o potremmo dire l'esplodere dell'uomo nelle sue direzioni motorie non so se anche a voi questo ricorda l'immagine hindu di Purusha l'uomo cosmico che squartato si apre si estende si villata si fa a pezzi e dà origine alle cose dello spazio e del tempo terreni a me l'ho ricordato molto quindi la croce del Messico raffigura potremmo dire come posso dire un processo di emanazione e di ricapitolazione ad un tempo emanazione e ricapitolazione delle forme emanazione e ricapitolazione del mondo nella sua orizzontalità attraverso l'azione qui ora verticale zenitale che tiene assieme lo spazio e il tempo il sopra e il sotto il cielo e la terra dove in quale verticalità nell'uomo in piedi nell'uomo qui nell'uomo sul punto che è l'albero della vita quell'albero della vita che abbiamo molte volte evocato asse del mondo asse del mondo non il Cristo ma l'uomo presente all'azione che si squarta nell'azione che esplode nella propria azione e così dà luogo agli orientamenti alle cose del mondo al sopra e al sotto asse del mondo che dunque coincide con la sua apertura esplosione divaricazione apertura del mondo ora incarnare questa croce è il compito di una nuova coltivazione dell'uomo e della terra per Artaud quella croce è una musica è una danza capite e crudele crudele e rivoluzionario per Artaud sarà solo quel fare che sarà in grado di permanere nel punto genitale in cui non si può permanere permanere nel punto dell'impermanenza nel punto zero incorporare quel punto questo vorrà dire diventare alchimia diventare alchimia diventare madre alchimia diventare madre oscura di ogni orientamento di ogni spazializzazione alchimia diventare crogiolo corpo crogiolo di questa azione che sto compiendo qui adesso io verticalmente io singolarmente in questa assoluta singolarità sfuggente evanescente imprendibile che appena si dice già si orienta che appena si muove già apre lo spazio ecco stare in quel punto è impossibile mi avventura alla ricerca dell'impossibile di Certo se l'avrò trovato se riuscirò a trovarlo allora potrò realizzare il vero teatro e forse non sarà più teatro sulle scene di Certo sarà nel corpo di Artaud nella sua vita reale nella sua vita di uomo singolare nel suo modo di mettere il piede sulla terra che si farà il processo che si farà il vero teatro veniamo adesso al secondo oggetto di cui vi volevo raccontare qualcosa il tamburo rituale Teponafli che era l'altro oggetto evocato d'Artaud come motivo di interesse per il suo viaggio fuori da città del Messico prima però prima di passare al tamburo Teponafli mi scuso ma vi devo leggere un altro passaggio che un altro punto breve di una lettera che Artaud scrive a Jean Paulin ancora il 4 febbraio 1937 pochi mesi prima del viaggio in Irlanda pochi mesi prima del suo ricovero in manicomio allora 4 febbraio 1937 ho detto sì la pagina è la 93 allora caro amico Parigi Parigi 4 febbraio 1937 caro amico arrivato proprio nel cuore della montagna Tarahumara sono stato colpito da reminiscenze fisiche così pressanti che mi parvero richiamare dei ricordi personali diretti tutto la vita della terra dell'erba in basso i frastagli della montagna le particolari forme delle rocce soprattutto il pulviscolo della luce a scalini nelle mai terminate prospettive delle vette le une sulle altre sempre più lontano in una profondità inimmaginabile tutto mi parve rappresentare un'esperienza vissuta già passata attraverso di me e non la scoperta di un mondo strano nuovo erano reminiscenze di una storia che mi venivano incontro roccia dopo roccia erba dopo erba orizzonte dopo orizzonte non sono io ad avere inventato la tradizione dei segni magici è che quella montagna ne è piena che quella montagna ne sia stata ossessionata è un fatto io l'ho visto di certo ne ho abbozzato la nomenclatura in uno degli articoli che le ho spedito la nomenclatura di tutti i segni che ho visto nella montagna la montagna dei segni di cui parleremo la prossima volta no? dice ma alla fine mi pare di poter sintetizzare tutti questi segni tutti questi segni ho l'impressione di averli annotati tutti sintetizzandoli in questa in questa immagine ora io vi ho fatto la cosa al su un foglio perché metterli al computer non mi venivano non erano capace allora vi leggo e vi mostro i segni che lui inserisce nel testo dice li ho ora annotati tutti dal questo questo che indico cioè la barretta la i diciamo no che si divide in questo le due barrette spezzato a metà da una barra questo con di fronte la stessa sbarra dritta che veniva fuori da esso questo questo ve lo cerchio questo ecco la sintesi questo e dice e non posso farci niente se questa forma ha H che sembra risultare da questa somma di segni è la figura centrale su cui come racconta Platone gli Atlantidi avevano edificato la loro città se si vuole di certo è puerile ditemi pure che sono infantile ma tutto questo esiste nella montagna Tarahumara e tutto questo esiste in Platone questo uomo occidentale tutto questo esiste anche in Platone e quel famoso segno l'ho ritrovato ovunque è l'H della generazione insomma io l'ho visto scaturire e come estrarre dagli alberi che erano stati arsi dall'alto in basso per liberare le figure io ho visto in quel segno una figura d'uomo e una di donna che stavano a fronte e l'uomo aveva la verga eretta quello è un simbolo di generazione è un simbolo di generazione è la coniunzio alchemica è il segno della congiunzione rigenerante e allora vediamo un momento il tamburo tipo Nasli con la figura 1 se Francesco può farla vedere il tamburo tipo Nasli qui è raffigurato quello che evidentemente è tenuto in mano appunto dal 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 musico sulla destra in primo piano un tamburo che si suona in orizzontale esso viene percosso nella parte superiore nella parte superiore se Francesco può far vedere la figura 2 e la 3 insomma la 2 cominciamo viene percosso nella parte superiore che è una parte in cui ci sono delle incisioni delle incisioni che sono come dire compiute realizzate sulla superficie linea o anche di pietra del tamburo a profondità diverse sono incise con differente pressione no? e guardate qual è il segno che c'è in tutti i tamburi teponassili e poiché le linee di questo segno generativo sono incise come dire impresse incise a diversa profondità percuotendo quest'area del tamburo che è la sua area sonora ne escono sonorità diverse evidentemente a seconda della profondità del punto del solco che viene colpito ora nel museo archeologico di città del messico vi è un esemplare molto interessante molto particolare di tamburo teponassili forse possiamo mettere la figura quattro francesco un esemplare molto particolare il tamburo teponassili in pietra un esemplare in pietra bellissimo che io ho avuto la fortuna incredibile di vedere era andata fin là quasi solo per questo che è questo il tamburo teponassili e questo in particolare hanno veramente qualcosa di magico però dovete immaginarli suonati ecco vi ho spiegato come picchiando su quel segno generativo che ricorda l'unione generativa anche lì la ricreazione la ricostruzione del mondo di nuove forme sempre la stessa ossessione rivoluzionaria di creare di costruire di far cultura di coltivare l'uomo e la terra picchiando e picchiando i diversi punti della sua incisione incisione che è la verticalità del qui che è generativa dello spazio è l'apertura del mondo la divaricazione e tu lo picchi e lo ripicchi lo picchi e lo ripicchi cioè continuamente insisti zenitalmente su quel segno su quella coniunzio alchemica e questo esemplare in particolare è straordinario questo esemplare di tamburo rituale è in pietra vi dicevo ai due lati è chiuso da pelli di giaguaro e come tutti i teponasli è consacrato al dio Masuizoccil Masuizoccil mi scuso se la pronuncia non è perfetta ma potete capire non è la mia lingua purtroppo questo dio è il dio della musica della danza dell'arte del canto quindi ovviamente il tamburo che fa risuonare la verticalità del colpo che apre lo spazio e il mondo questo tamburo è dedicato ovviamente al dio della musica della danza dell'arte del canto dicevo letteralmente la parola che dà nome a questo dio Masuizoccil significa cinque fiori ed è uno dei nomi o una delle manifestazioni di quel dio unico e plurimodo il tempo che si chiama Zocipilli Zocipilli il cui nome significa bambino dei fiori o principe dei fiori principe dei fiori possiamo far vedere la figura cinque Francesco la figura cinque appunto mostra eccolo qua il principe dei fiori o anche bambino dei fiori Masui Maquilzocitl significa cinque fiori cinque sulla totalità dei fiori che sono incarnati da Zocipilli il bambino dei fiori che come vedete è un dio è un dio è un dio che canta non so come dire no? è palesemente un dio che canta è un dio anche estatico se volete se guardiamo la figura a sei Francesco si vede il primo piano del volto primo piano del volto vediamo se riusciamo a vederlo eccolo ecco il volto di Zocipilli del bambino dei fiori con una bocca aperta estaticamente oppure oppure aperta nel canto che è uno dei fiori dei fiori di cui il principe è portatore Zocipilli è anche dio della terra perché spesso lo si raffigura poggiante su un serpente arrotolato come il danzatore che cerca sulla terra lo slancio lo slancio per il salto lo slancio che lo farà elevare come il danzatore come il danzatore è Zocipilli il principe dei fiori dio del canto ma se torniamo a questo incredibile tamburo teponasidi di città del messico cioè la figura quattro che guardavamo prima scopriamo una cosa straordinaria davvero straordinaria su quel tamburo avete visto che ci sono incise nella pietra delle figure se torniamo a vederle eccolo guardiamolo bene ci sono incise delle figure che sono due mani ferite aperte due mani come tagliate nel centro al centro che poggiano su due cuori o che sfiorano due cuori trapassati da coltelli e che mani che poi si intrecciano e si posano sui pistilli di un ramo fiorito che in realtà parte dal dal retro di un ramo fiorito e queste figure separate che così vi ho descritto l'avete viste una d'una credo compongono però una volta rimescolate una volta montate così come sono montate sul tamburo compongono un volto il volto di un altro dio il dio che si chiama Zipetotek Zipetotek questo è il volto di Zipetotek pregherei Francesco ora che avete guardato bene questo volto che emerge dalla composizione sul tamburo teponassli che è conservato nel museo archeologico di Città del Messico pregherei Francesco di tornare di andare adesso alla figura 7 per mostrare per raccontare in due parole chi è Zipetotek che è raffigurato su quel tamburo teponassli il cui volto emerge dalla composizione di quelle mani trafitte di quei cuori trafitti e di questi fiori che proliferano e diventano bocca Zipetotek è Nostro Signore lo Scorticato Nostro Signore lo Scorticato una divinità misteca tolteca che presiedeva alla rinascita al passaggio dalla morte alla vita e dalla vita alla morte è anche e per questo il dio dell'agricoltura Zipetotek è però anche il dio dell'Occidente lì dove tutto tramonta lì dove il sole tramonta e si rabbuia e quindi è il dio delle malattie ma anche della primavera perché è un dio di morte rinascita e in questo senso è un dio del lavoro il dio dei fabbri un dio delle stagioni perché si chiama Nostro Signore lo Scorticato Zipetotek perché si narra che Zipetotek si tolse la pelle si squartò la pelle per dare nutrimento all'umanità così come fa il seme del mais che perde la scorza esterna per potere così germogliare infatti Zipetotek veniva raffigurato eccolo qua anche questa è una raffigurazione su un codice Borgia credo raffigurato senza pelle come un dio dorato oppure con una seconda pelle che gli veniva offerta diciamo così dopo essere stata tinta cambiata di colore e resa appunto gialla dorata se andiamo alla figura 8 alle figure 8 e 9 vediamo altre rappresentazioni straordinarie del dio Zipetotek lì abbiamo visto sul tamburo teponassi abbiamo visto il volto che emerge su quella superficie battuta e qui vediamo incredibilmente lo stesso Zipetotek raffigurato così come è stato trovato dagli archeologi messicani recentemente mi pare che proprio nel 19 nel 18 sia stato scoperto il primo tempio in Messico sicuramente dedicato a questo dio a nostro signore lo scorticato nostro signore lo scorticato il cui che ha la bocca aperta come vedete che è dio dell'agricoltura della rinascita del passaggio morte vita che è colui che si tolse la pelle come il seme del mais che deve perdere la scorza abbiamo detto per poter germogliare è colui che si squarta che si che si squarta perché possa nascere perché possa nascere il cibo ciò che si mangia e perché si mangia dicevamo prima con Artot la sua bocca aperta e la bocca aperta esattamente come quella estatica del canto del bambino dei fiori di Socipilli e se vediamo l'ultima figura adesso la nove veramente è impressionante quello che vediamo qua perché quest'ultima figura è una figura di Sipetotec in piedi rivestito di un'altra pelle eccolo qua lo scorticato lo scorticato che da una parte ricorda evidentemente appunto il mais che fiorisce sulla sua pelle strappata noi sappiamo per certo che canta che ha la bocca aperta sappiamo per certo che si svolgevano sacrifici umani che si svolgevano sacrifici umani nella civiltà tolteca lo sapete ovviamente come poi in quella steca che ne deriva pare però che soltanto nei culti del dio Sipetotec si usasse un sacrificio molto particolare e cioè che la vittima sacrificale venisse appunto privata della pelle scuoiata e che quella pelle trattata venisse poi appoggiata sul corpo del sacerdote che così ufficiava celebrava la memoria e l'efficacia la memoria dell'efficacia del dio del passaggio del dio del passaggio delle stagioni della rinascita della morte e della rimersione esattamente come il seme scuoiato esattamente come il seme scuoiato e io non so se questo accade anche a voi ma questa figura a me sembra un'altra manifestazione un'altra forma del nostro marzia quel marzia scuoiato e appeso ricordate a testa in giù che viene privato che viene sacrificato diciamo così sacrificato che viene sacrificato al canto e che così apre alla musica alla poesia ma questo è un altro modo questo è un altro marzia è un marzia scorticato e rivestito è un marzia scorticato per generare ed è un marzia in piedi è un marzia in piedi esattamente come appunto quell'uomo squartato nello spazio che verticalmente picchiando sul punto della terra del suo qui divarica il mondo e lo fa cadere come una germinazione di nuova primavera mi fermerei qua quest'oggi chiudo la registrazione è un marzia Grazie a tutti.